...del governo, il segretario del Carroccio continua a dirsi ottimista. Io sono pronto. Io non dico no a nessuno, sono altri che non hanno ancora deciso che tipo di vino bere. ...o tanto vale tornare alle urne, ecco perché all'ipotesi di un esecutivo PD 5 Stelle propone ironicamente un brindisi con un vino scaduto, finto italiano e prodotto in Romania. E dal Vinitaly e anche Melonia condannare Veti e rilanciare la necessità del dialogo per formare un governo.